Ciao ragazzi, oggi siamo qui in questa domenica che stiamo andando al raduno a Biassono, un piccolo raduno nella zona industriale, praticamente adesso ci stiamo congiungendo con Jazz e Rave che sono lì dove c'è quella rotonda, dietro di me c'è Ricky, l'altro ragazzo con la Z800 e niente, adesso andiamo lì, vediamo, cazzeggiamo un po', eccoci qua che ignoranza che pinnatore seriale Nick cazzo è tutto su una ruota, è tutto il viale si fa qui oggi abbiamo una doppia coppia del 701, doppia MT, doppia Z, tutti in coppia oggi oh Nick c'è una qualità che ha il bacio, il calzino rosa va, oh, tutto uno oh 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 con le chiavi in mano che saltavano ma guarda che quando arrivano i carabinieri noi volevamo andare in autodroma si deve pagare tutto visto che è tardi abbiamo deciso di andare in un bar visto che come ovviamente ogni singola volta la pula viene a rovinare tutti i raduni e quindi niente adesso ci dirigiamo al bar oh la griglia della motocicletta la Z fa i 15.7 adesso così giusto per che era tanto la cambia martedì non lo uso più fino a martedì eh si ragazzi oggi giornata così cazzeggio degli intorni di casa comunque mi raccomando seguitemi sempre su youtube iscrivetevi al canale mi raccomando seguitemi anche su instagram facebook tutti i social che conoscete mi raccomando lasciate un bel like e commentate detto questo ci vediamo al prossimo video ciao